come sta bene l'hanno liberato ma un urato è stata catturata si vado a cercare lo scrigno non so quanto tempo mi ci vorrà grazie l'occhio del serpente eccolo l'occhio del serpente eccolo Grazie a tutti. 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 Tutto pieno, non ci sta niente a tutti. Grazie a tutti. Forza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi pare di scorgere un tempio laggiù. Grazie a tutti. 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 Lo spero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.